bella a tutti ragazzi e ragazzi siamo su un nuovissimo video in questo video come potete vedere l'armadietto abbiamo un punto esclamativo e questo è il mio primo indizio primo indizio avrete già capito secondo indizio l'avete capito tutti finalmente ragazzi siamo lo spacca tutto il visitatore spacca tutto come cazzo lo potete chiamare lo chiamate oh che figo lo possiamo personificare bellissimo abbiamo finalmente ragazzi lo spacca tutto finalmente ce l'abbiamo fatta raga ho appena finito adesso di fare la missione la missione più difficile di tutti c'era più difficile quella che doveva essere facile ma non è facile perché non ti fanno fare una bene amata minchia per quella di cercare forse le ripete rischiose sì li ho trovati sì li ho fatti ma con tipo due giorni di dura fatica perché perché i miei compagni erano bastardi e nel frattempo che io raccoglievo qualche arma in tempo di secondi si erano fatti tutti i forzieri ma finalmente raga il tempo c'è il tempo il la cosa è venuta si è risolta abbiamo fatto abbiamo ottenuto quello che volevamo e ci siamo raga lo spacca tutto adesso andiamo a vedere i vari stili c'è questo tipo che ti piglia per il culo ridendo che è tipo inquietantissimo questo raga è fighissimo sembra da film questo non è male ma nemmeno lo metterei raga questo è inquietante io metto questo perché più figo c'è perché anche perché non possiamo dire che questo è bruttissimo che questo di default che c'è è bellissimo però io mettere questo abbiamo pure il cosa di caricamento eccolo qua dai confini dell'ignoto al centro dello sprofondo stanti stantio che cazzo vuol dire dai confini dell'ignoto al centro dello sprofondo stantio che cazzo è lo stante comunque raga perché non c'è un coso allora raga vediamo quale possiamo metterci per abbinarlo allora lui diciamo quello che ha fatto più dubitare c'è faccia tenuto in tensione tenuto sulle spine tutti i giocatori di fortnite c'è tenuto attivo a dire ma chi sarà questo spacca tutto ed è sta figata raga che fighissimo raga adesso abbiamo pure questo tra l'altro siamo in posto battaglio livello 87 poco abbiamo omega però questo è un altro conto cerchiamo cerchiamo raga un deltaplano che si adegui e si abbini a lui problema è quale problema è quale perché non c'è questo no c'è il distruttore lo spacca tutto gli mettiamo questo arcobaleno assolutamente no questo ci sta con gente ribelle no questo fa schifo sì ma anche no no raga non so cosa mette ma affanculo io metto intrepide vacca che come piccone invece possiamo abbinarli io pensavo di mettergli questo perché i colori lo stile il tutto ci sta ed è questo ballo è bellissimo c'è in ultimi giraccio intorno a questo ballo è bellissimo tra sei giorni raga ci sono le sfide della settimana sei otto e raga vediamo quale ci darà quello ci diranno tra sei giorni vedendo in meno di una settimana ci saranno le sfide io raga direi che possiamo partire abbiamo perso un sacco in questa in questo pre lobby raga io non sento un cazzo di del gioco perché le cuffie sono rotte l'audio però funziona il microfono e le cuffie no quindi commentatevi raga mi raccomando lasciate un bel like bella ci vediamo in partita bene raga siamo in lobby e raga bellissimo io ce lo spacca tutto e tu no suca suca merda a me si ballo fuori in faccia vaffanculo e allora un'impressione mia o è più g e più alto di tutte le altre skin penso sono impressione mia perché raga io l'ho visto tutto della skin dell'altra skin non lo so ma l'ho visto tipo più alto non lo capisco perché comunque raga dopo la mia avventura a rapide rischiose mi sa che per me rapide rischiose adesso ci possono cadere non uno ma centomila meteoriti perché non c'entrò mai più vaffanculo mi ricorderò di quella merda di città adesso raga ce ne andiamo e poi raga questo ci sta perché spacca tutto è un alieno che sembra tipo una specie di navicella di una specie di pazzia aliega delle albi comunque la gesta città 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 sono abbiato male con lo d'appeto malissimo però no calmati non non no ok andiamo il signore spacca tutto finalmente nelle nostre mani e appena avremo omega raga sarà ancora più bello la cosa appena avremo omega appena avremo omega tutte le cose tutte le cose che devo personalizzare con omega i colori beccato non si possono personalizzare solamente a rosso mi so perché tutti i colori non ci possono personalizzare loro ai ei ma raga ma avete visto che io ho trovato solamente 40 e colpi altri colpi che gli ho sparato non gli sono entrati in it dico l'avete visto vero gli altri gli altri colpi che ho fatto non sono entrati in it va bene anche se ho perso era una battaglia di prova per vedere come omega io il video carico lo stesso se il video è piaciuto lasciate un bel like c'è un bel like per omega per omega per spacca tutto iscrivetevi per lo spacca tutto con questo ballo tenebroso iscrivetevi quel ballo più brutto non mettono balli per per far vedere il terrore che causa questo personaggio ma che schifo questa epic games epic games mi rivolgo a te metti subito un ballo che rispecchi la cattiveria di questo spacca tutto ragazzi video è piaciuto basta con le minchiate se vedete ad altra ragazzo è uscito pure questo cosa bellissimo che non so se compro se non compro non so niente se il video ragazzo vi è piaciuto iscrivetevi al canale mi raccomando lasciate un bel like iscrivetevi alla prossima bella rega tra l'altro no aspetta questa è una presa per il culo questa è una presa grande per il culo l'italia ai mondiali non c'è e per farci rosicare te la mettono qua piccicata su quel punto vaffanculo epic vaffanculo questa me la paghi se vede più da rega iscrivetevi